musica 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 aspetta ma cosa sta dicendo ma cosa sta dicendo sono stato bullizzato perché parlavo con le verdure aspetta un momento sono stato bullizzato perché parlavo con le verdure quindi lui è molto professore di ginnastica no ma scusatemi un attimo ma che lavoro fa sua madre guida i camion figa ma porca puttana ma c'è il braccio che è il doppio del mio secondo me questo signore noi l'abbiamo già visto datemi solamente un secondo perché io lo so lo so lo so aspetta eh aspetta che noi questo signore qua l'abbiamo già visto da qualche parte mi sembra lui mi sembra non è così diverso sono 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 timorato di dio la 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 lica smascella figa cos'è che sta facendo lì figa sta stava smascellando palesemente in presa a una crisi che non ma perché dovrebbe fare queste versi una persona c'è guardatelo quello che va a fare il volontariato e canta nel coro della chiesa figa ma cosa fa sono aurora percoddia figa mi hanno preso perché volevo farmi un po' vedere zio io già sono aurora e allora l'altro giorno no figa ho scritto la canzone figa la canzone e sono aurora e vado al collegio e non me ne frego di un cazzone praticamente la risposta è pronta seca ora che ci sarà del peggio non vuole non vuole abbastanza tosta e boh questo sono io bella bella zio che porcoddia sono andata con la culpa dei bro figa ho visto il fraglio ho detto oh zio perché sei andato perché l'hai fatto bambini che figa me l'ave mai usato io non non avevo usato i miei no cosa ha detto no no cosa ha detto quello che dovevano usare i miei quello che dovevano usare i miei ma perché un uomo distrutto dal dolore di essere al mondo incogli un disco su un computer ma cosa quando 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 ti privano delle mammelle cos'è che ha detto cos'è che ha detto cos'è che ma dov'è che gli è venita in mente questa cosa qua cosa no 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 aspetta non lo può avere detto prendendo per il culo è palesemente è palesemente il card ma è palesemente il card ragazzi ma guardatelo dov'è dov'è è lui cioè questo è palesemente il cardamone ragazzi si è fatto creare è lui eh è lui ma è palesemente lui chi vuoi far festa il cardamone cosa vuole fare vaile bravo duccio bravo si cazzo ce l'hai lo spring figa spring minca duccio complimenti lui sta ancora cercando di far girare le rotelle autun ce l'ha un po' non c'è ne uno solo dai che lo sai cosa ho detto estati prima meri dai no ti prego ti prego smettila smettila inverno no inverno questa ragazzi bravo lui è il campione di tempo ragazzi le so tutte le sale 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 mare sul mare nooo la anche lei un pochettino come dire non lo so scioccata da quello che dice la repubblica fondata sul mare non non credo che abbia dei sani principi cosa sta dicendo lei è un po' una minchiona signorina no si insomma è una scemo la cosa che gira ma perchè va giù così figa aspetta ha avuto un collasso e traccarla e cosa fa il master ah ah perchè quando mazzo quando vedi vedi cosa masterizzazione si sparano i capelli in alto il latte il latte tipo pasteurizzazione lifting perchè come i minimo son 44 perugia ma aspetta no perchè la risata finale no ma aspetta sono davide costantino perchè ho fatto la risata finale sono giovanni in provincia di perugia ah ah qualcuno lo clip lo metto come sfondo del desktop come fai a non averlo come sfondo del desktop perchè avrebbe dovuto farlo perchè avrebbe dovuto farlo vado 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 tua madre quella zoccola quella zoccola porco diaz poi si lamentano che fottono tutte le mazze da baseball o decathlon voglio parlarne ho eliminato il doppio mento ho eliminato il doppio eliminato il doppio mento vola ragazzi il tempo con voi vola vola con quattro dita in gola il vomito che cola non penso che ne abbiamo altri di scagnozzi ma sei coglione aspetta ciò può aspetta 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 o tira la la non ci posso credere no il pirata mi ha buttato giù il pirata popo corre come un siluro me lo infila nel sono sono arrivato ok si è pazzo perché ora che siamo solo in due ma e vabbè ma ah